In questo video vi facciamo vedere come versare e livellare correttamente Art Resin. Una volta mescolati insieme resina e indurente, avrete circa tre quarti d'ora per livellare la miscela prima che inizi a indurirsi. Se la miscela è più calda dell'ambiente, i tempi di lavoro e di indurimento si ridurranno. Versare e livellare Art Resin a piacere. Se intendete rivestire l'intera opera, iniziate a versare dal centro. Usate una spatola per guidare la resina esattamente dove volete, oppure potete usare un pennello usaigetta per abbellire solo alcune parti della vostra opera. Potete resinare i fianchi con un pennello usaigetta o con la mano guantata, oppure lasciare che forme una superficie liscia. Ora siate pronti per il quinto passo! Grazie per la visione!